ciao a tutti oggi prepareremo il gelato al bergamotto il tempo di preparazione della ricetta è di circa due minuti gli ingredienti sono sciroppo di bergamotto zucchero e latte congelata a cubetti i quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo visiricettebimbi.blogspot.it diamo il via alla ricetta iniziamo polverizzando lo zucchero mettiamo lo zucchero all'interno del boccale e lo polverizziamo per 10 secondi a velocità 10 adesso andiamo ad aggiungere lo sciroppo di bergamotto e andiamo ad avalgamare per 30 secondi la velocità a 4 andiamo un po' sul fondo andiamo ad aggiungere il latte congelato a cubetti e andiamo ad amalgamare il tutto per 30 secondi a velocità 7 spadolando il nostro gelato è pronto andiamo a metterlo in delle coppette gelato al bergamotto grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti